Tutto a posto, signore, mi ripeto i vostri ordini. Alzati, amico mio, e ripiglia fiato perché non si capisce una sega. Quindi io sono un guerriero? No, sei un ranger. Un ranger. Un ranger. E che fai il ranger? Il ranger. E che vuol dire rirangere? Quanti punti vita ho io? Che te ne frega? Ma come me ne frega? Sui braccio, il corpo... Te oggi devi solo morire. E basta. E basta. Ssh! Zitti! E' l'ora della verità. E' un bene che tutti siamo uniti da noi. Combatti bene, ti muovi velocemente e soprattutto pensi. Grazie. Bene. Mi spiegate perché dobbiamo fidarci di lei? Finora non ha portato niente di buono. Principessa, perché non ti rilassi? Ragazzi, Siegfried ha messo nei guai sia me che voi. E poi io so una cosa che può interessarvi. Allora, senti. Prima cosa, se nel gruppo c'è una principessina, questa è lui. E secondo, dacci una buona ragione per non ucciderti subito. Mi fai finire di parlare? Parla. Grazie. Prego. Non c'è solo una chiave. Sono tre. E Siegfried ne ha due. Quindi potremo batterlo sul tempo e prendere quella che gli manca. Fantastico! Dov'è l'ultima chiave? E che devo pensare tutto io? Non sei la mente del gruppo? Pensa! Forse è una soluzione. Il gran maestro della Torre Rossa... Il gran divano Cacca Fulmini! Lui! Sì, lui. Lui forse sa qualcosa. Dobbiamo solo trovarlo. E dov'è? Beh, se dobbiamo trovare qualcuno l'unico posto dove cercare è la taverna. Certo, la taverna! Così voi cercate sto vecchiaccio. E io mi sbronzo. Vieni, coso! Oh! È una trappola. Poi la scelta fa caldo oggi. Poi te nemmeno se leggerino io c'ho questo belliccio ottimo. Davolo lo fai re. Sperta, ragione. Fermi! Aspettate qui. Sta arrivando, sta arrivando. La prossima volta devi ricreparci. E di creparci bene. E te non ti metterai in mezzo. Scusa, cosa avrei dovuto fare? Lasciarlo morire? De certo. Guarda che io sto facendo il mio dovere. Comunque, di niente. Eccola! Non troverete peggior covo di feccia e malvagità nell'intera contea? Non troverete. vediamo se uno di questi ragazzi ci risolve il problema della sua grama vita il vostro comportamento da irresponsabile avrebbe alquanto stufato la nostra regal persona voi avete ampiamente abusato dell'autorità che vi avevamo concesso ma sir è veramente io non vogliamo più ascoltare scuse Siegfried, voi siete arrivato a coinvolgere nelle vostre macchinazioni una sacerdotessa del Tempio della Luce tutto questo è disdicevole e voi? meritate una punizione esemplare uno emergenza, il principino è in pericolo sei uno doppio sei dolcezza non mi freddi, mostra mi devi una bella somma suppongo che mi rifarò con gli interessi ah sì? pensi di prostituirsi? spiritoso penso che invece venderò quella tua bella testolina ma tu sai chi? non credo che lo farai e cosa me lo impedirebbe? questa scusa se ho sporcato un po' cerco un grande mago cerco un grande mago cerco un grande mago maestro sei me? si maestro ho bisogno della vostra conoscenza vieni giovane allievo andiamo nelle mie stanze non c'è posto per il nostro intelletto in questa latrina allora questa ragazza all'arena? all'arena dopo la facciante di amazzolo amazzolo me e te mica lui ma non posso andare a casa in base? stai zitto te quello grosso quello codenti quello con la cosa morto hanno ammazzato i chizombi una cosa l'orco no l'orco è diventato una vestale è cambiato completamente giro eccio no ragazzi ma si birra Conan ora grog mi schiaffaccia dunque tu vuoi sapere delle chiavi e di Ashtur il loro creatore si aiutatemi maestro siete la mia sola speranza devi sapere che Ashtur è un potente mago che si è votato alla necromanzia e ha usato le chiavi per sigillare l'unica cosa che potrebbe impedirgli di portare a termine il suo piano noi cosa possiamo fare? grandi sono i pericoli che dovrete affrontare poiché due chiavi Ashtur ha disperso perché non fossero riunite ma una terza ha tenuto per sé nel suo meandro ditemi maestro dove posso trovare questo luogo? l'entrata del dungeon si trova a nord bimbi se volete i fumati aprite la finestra almeno ho sbaglio lo so a me stia se mi mandano fare di c'è bello mi sembra eh scusa un attimo ehi bestione ammaliato tu sia dal mio potere lascia ragazzi ho importantissime novità abbiamo una nuova speranza e quindi nella nostra regale magnificenza noi vi evochiamo ogni e questi che ho le ora? eh sì re ho qui qualcosa che forse vi aiuterà a riconsiderare la vostra posizione ehm si ehm si ehm ehm si ehm si si anche voi sentite caldo? si 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 molto vorreste forse qualcosa da bere? molto volentieri guardi eh portateci da bere ehm 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 come ehm 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 a ehm ehm Grazie a tutti. Grazie a tutti.